100 milioni di euro per finanziare 73 progetti che prenderanno il via nei prossimi mesi destinati a migliorare sul territorio vivibilità e servizi. È il risultato del piano strategico della città metropolitana di Napoli che prevede 400 milioni di euro destinati ai 92 comuni dell'area. A Napoli sono 100 i milioni a disposizione utilizzabili già a partire da giugno per la realizzazione di opere di manutenzione stradale finanziate per circa 60 milioni, la riqualificazione di parchi, progetti per 14 milioni e poi manutenzione di impianti sportivi, implementazione della raccolta differenziata e valorizzazione di siti culturali e monumenti. Un grandissimo lavoro della città metropolitana, in questo caso un grandissimo lavoro del comune di Napoli, 100 milioni per tante opere in direzioni strategie, dalle infrastrutture alla mobilità, all'ambiente, al verde, alle fragilità, allo sviluppo, alla cultura. C'è una visione di città e di città metropolitana. Di questo devo ringraziare la città metropolitana e il comune, i consiglieri della città metropolitana nella loro stragrande maggioranza, i sindaci. Credo che Napoli in questo sia una città all'avanguardia perché ha saputo mettere in campo 400 milioni che ci siamo conquistati anche in una controversia istituzionale e politica, che l'abbiamo messa a disposizione dei sindaci, di tutti i sindaci che stanno presentando progetti di grande valore, di questo sono orgoglioso indipendentemente dall'appartenenza politica dei miei colleghi. La città di Napoli credo che nei prossimi due anni raggiungerà la vetta di una capitale del mondo. Gli interventi previsti dal piano strategico della città metropolitana interesseranno tutti i quartieri cittadini e si aggiungono ai 17 milioni di euro già stanziati dal pon metro per il welfare e ai 50 milioni destinati alle scuole dal patto per Napoli. Pensiamo solo a questo, l'opportunità che hanno avuto i piccoli comuni che non hanno mai visto un euro, che non potevano accedere direttamente ai finanziamenti europei grazie al lavoro che ho voluto prima io fortemente, poi sono stato seguito dalla stragrande maggioranza dei consiglieri metropolitani, vanno ad avere delle risorse che non avrebbero mai immaginato, in totale autonomia, in totale libertà, senza avere nessun gancio politico con qualcuno che vuole controllare la spesa pubblica in maniera opaca, a dire io ti do questo, però decido io l'opera che devi fare in quel comune, come fanno altre volte, siamo abituati al nostro paese, decidono i sindaci nella loro autonomia insieme ai consigli comunali e poi ne daranno conto ai cittadini se il loro sindaco ha scelto meno bene. Io credo che è veramente importante anche da un punto istituzionale perché se pensiamo che in città metropolitana ci sono forze politiche molto differenti, aver raggiunto questo obiettivo, cioè significa che qua c'è una maturità politica, cioè significa che quando si lavora bene, con correttezza viene riconosciuto questo lavoro e l'interesse delle comunità e ognuno anche politicamente lo sa utilizzare in maniera intelligente.